una cosa potrei fare per avvenarmi un po la vita finita freddys 2 no 5 2 è un pochettino vecchio allora ci sono sei finita freddys ho portato tipo una o due volte finita freddys 4 e 5 e non ne ho mai continuare perché mi arriva di paura ora c'è ora vorrei rifarli per portare un po più di giochi horror che ho in mente di portare anche outlast ma devo aspettare devo aspettare che sono 5g per molti di voi saranno pochi per me un sacco che non tutti hanno la di avere la fibra ma vabbè mouse look around c'è la sensibilità un po alta non per dire però no è altissima sensibilità ok si potrebbe togliere sta roba di non era quello che volevo fare c'è nemmeno c'è il mio corpo nemmeno vuole farmi giocare non vuole che io muoio quindi pur di non farmi giocare che resta roba mi fatto togliere il gioco va bene ok io non capirò mai perché a cosa serve sto scendere c'è non lo capisco questo dovrebbe essere tipo ballora ballora non lo so io voglio il verde a me dico sì grazie a prestare il verde a me no mike ciao mike mi ha cliccato una volta ma cosa dice che ho cliccato così tante volte errore so va bene ok ti puoi togliere mike dovremmo essere quasi arrivati infatti c'è danger pericolo pericolo da me si muore di freddo notte 2 perché la 1 avevo già fatta e la 1 c'era un tutorial anche questo dovrebbe essere semplicissimo ma io veramente da me sto morendo di freddo che cavolo vabbè pace pace cavolo messo al contrario pace quindi pulsante rosso come sempre e andiamo pericolo non chi se ne frega di pericoli ma perché non hanno bloccato l'entrata certo ok si può non vorrei correre chi se ne frega dai voglio degli infarti e io voglio degli infarti voglio degli infarti e adesso morirò ma allora ciao e quindi sì c'è ballora poi quanta cosa è scritto non vuoi ma non vuole era dell'uno per il femminile vabbè non c'è scherzavo non so se c'era però tu sei brutto anche voi tre non so cosa ha detto però tizio vuoi continuare a parlare o cosa io vorrei mettere sottotitoli però che giustizia è non poter mettere sottotitoli ah si è aperto sta roba ok sempre corriamo che tanto chi se ne frega gli animatroni non so dove stiamo andando tipo vogliamo la sala controllo e devo capire che che questo faremo soltanto una notte perché io per davvero un sacco ma davvero tanto a scuola no però che freddo io sento il freddo che c'è lì dentro c'è che successo non funziona amico non funziona poi ci sono le robe della discoteca poi andiamo a donna si muore di freddo la pelle d'oca ok quindi si è tolta la luce va bene poi c'è questo qua che fa veramente schifo e per me sono già uno schermo non vedo pensavo ah ah no pensavo che tipo è renduto lì posso fare qualcosa si è solo per due anni niente vabbè taglia perché questo continua a parlare anche se dovrei dire che io parlo finalmente non scherzo è stata due ore a parlare e adesso posso andare under the desk under the desk desk under the desk grabber si ma non potete dire l'italiano lo so che è una lingua difficile cioè io l'inglese ho avuto cinque sono riuscito a prendere tre e mezzo in inglese che non si può prendere cioè la propria ha detto la propria ha detto che ho preso tre e mezzo ma visto che non si può mettere mette quattro ma l'ho prende con un tre e mezzo capite quanto capite quando faccio scritto in inglese adesso vero o chi era chi era ditemi chi era almeno cinque non fa così paura vabbè mettere a sondaggio se volete che porto finita fra 10 5 o finita fra 10 4 che il 4 vera ciao come ti va la vita vabbè sto dicendo che il 4 fa veramente tipo in confronto fanno parlare vabbè in confronto il 5 non è niente 6 il 4 veramente ti fa cagare in mano dove sei oh oh chi è sono più forte io ok sono più forte io hai capito dove sei continuare a guardarmi ora per le grab the desk the desk non sono le mani che c'è perfetto cioè ti sei riuscito ad andare via e continuerai così per tutta la vita che io devo mangiare è tornato è tornato è tornato il tizio grazie adesso per me lui mi da le cose sbagliate da quel botte d'inglese che so eh se beh vabbè da quel botte d'inglese che so lui dice le cose sbagliate di sicuro mi ha aperto sta porta questo dovrebbe essere quella di ballora ma perché non mi fanno andare da foxy va bene non è che fa più paura però ok do una porta da dove porta quella roba cosa vuoi non c'è io non vado a vivere lo c'è sai che muoio vero infatti è questo è quello che dicevo questo vuole che muoio ehm ho paura di prendere un impatto fra pochissimo ma non c'è nessuno è così grande ma sei serio vado io eh ciao è stato bello conosce che vado tranquillo ok ciao allora io ci provo ok corro 3 2 1 ci sto provando mi sono dato un pugno fortissimo mi sono dato un pugno fortissimo nelle labbra è sto divertendo però ci ha provato non devo ascoltare più quel tizio che male qua mi sono presa l'asta che male è ok game over va bene però stai zitto con il mio piacere perché ti ascoltate sono andato veloce c'è che mi hai fatto malissimo se giocavo con le cucchie era la fine per me c'è io ho dovuto giocarmi tutto quanto è per voi c'è io devo rifarmi tutta sta roba perché ci ho provato è stato divertente avendo l'infarto non potete capire quanto ho paura di prendere un altro infarto di darmi un altro pugno in faccia cioè non potete capire già che ho già avuto la verifica di spagnolo ok ok ci sono vabbè vai via ci sono quasi dai oh cavolo oh cavolo ci sono quasi ci sono quasi ma è come se la porta non non arrivasse mai cioè se sentiamo quel tananana per me alla fine veramente c'è dai cavolo ci sono quasi potete capire che questa porta non arriva mai cioè non si arriva non se la faccio se volete capire che non ci va se io sono lì sono qui davanti ok finalmente per favore stavolta dimmi le rabe giuste ah adesso devo fare questa roba a restare oh cavolo no qui ho paurissimo veramente vai giù vai via ok è il momento vai 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 per favore ce la posso fai dai 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 per essere una questione di tempo oh puoi andare dato al momento qui si recita tutto vai vai c'entro oh eh dovrebbe ciao te ne puoi andare no grazie ora sono un pochettino più tranquillo balloraggi ah quindi in pratica devo fare questa roba in tutto quanto ok vattene tanto lo so che sei sempre qui devi andartene non sei andata vai via oh vai via perchè un danger livello non va via ok ora mai più è l'ultimo è l'ultimo oh 50 70 sì 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 capio del mondo la medaglia voglio la medaglia la medaglia la medaglia cioè oh mio dio cioè mamma mia ma cioè alla prima no 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 tutta l'indietro no io non le faccio sta roba eh oh sì dopo due ore dopo due ore notte completata sì 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 così si fa così 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 eh posso montare il popcorn sì che bello me lo merito quindi ragazzi direi che arrivano qui se l'ho fatta notte completate durante 3 la farò un giorno ma non oggi perchè questo video sta durando già un stacco quindi va bene vi riesci qui ciao ciao